Presidio la staria San Severo o Foggia? Così è stato disegnato, diciamo, presidio la staria San Severo. Così è stato disegnato, mi sembra anche più opportuno, anche perché in questo modo possiamo ottimizzare meglio le risorse e soprattutto fare sì che questo punto dell'emergenza urgenza abbia il suo valore, cioè quello che merita. L'ultima battuta, insomma, in questi ultimi giorni c'è tanta da chiacchierare. Gli ospedali, chiusura, cerignola, qualcuno continua a lamentarsi. Il 30 aprile finalmente arrivano anche le primarie, probabilmente toglieremo questo problema. Questo lo dice lei, diciamo, io continuo a fare il mio lavoro tecnico, poi la politica fa la sua parte, ha un ruolo importante quando ha un ruolo costruttivo. È evidente che anche sugli altri due ospedali importanti che abbiamo di primo livello, ma non manca Manfredonia, perché è un altro ospedale per noi frontaliero, importante, noi abbiamo tutta l'attenzione possibile. Naturalmente stiamo costruendo tutto questo con l'assessorato, quindi con la regione Puglia, che non manca di darci sostegno, salvo che poi c'è un altro step, che è quello del ministero. E allora, diciamo, io comprendo, perché vengo proprio dall'assessorato, quello era il mio lavoro precedente, so quanta fatica fanno i miei colleghi, quando poi vanno al ministero si devono far approvare quello che noi desideriamo, quello che noi vogliamo, quello che forse è giusto che noi abbiamo. Insomma, Lucera non chiuderà. Assolutamente no.